Ciao a tutti da Gianluca Attanasio e dal mio amico Capitano America oggi voglio recensire queste cuffie bluetooth viva voce della Sunvito in media su amazon.it Sunvito mini sport bluetooth 4.0 per un ascolto ad alta fedeltà e per un utilizzo moltevice perché è possibile utilizzare queste cuffie anche come auricolare telefonico ma andiamo a fare subito l'unboxing insieme ecco le cuffie ecco la scatola davvero piccolina che arriva all'interno di un'altra scatola di amazon sempre tutto imballato benissimo andiamo ad aprire la nostra scatola eccoci qua allora all'interno troviamo bene imballato le nostre cuffie utilissime per lo sport impermeabili cosa importante riescono a sopportare il sudore all'interno anche abbiamo il cavo di ricarica perché all'interno una batteria alta durata usb micro usb ecco qua che abbiamo anche il libretto di istruzioni quick start guide molto ben fatto perché spiega bene quelli che sono i tastini di controllo ma diciamo che di facile intuito vedremo anche come verrà posizionato meglio inglobato e collegato all'interno del nostro telefono allora apriamo la nostra bustina eccoci qua le nostre cuffie che hanno già la ricevente all'interno fatte veramente molto bene con questi archetti molto comodi che andremo a vedere le cuffie si presentano con un cavetto anti groviglio molto ben fatto le solite piattine molto bello molto belli i gommini per le orecchie ricordo che sono in iar quindi vengono in seguito all'interno delle orecchie mancano però purtroppo i gommini di ricambio ma credo che servono a poco perché si può utilizzare qualsiasi tipo di gommino il cavo dicevo è molto ben fatto i comandi sono a portata di mano abbiamo il tasso play pausa abbiamo il led di stato più e meno per mandare il bravo atti indietro e per alzare il volume abbiamo il microfono insomma cosa dire le cuffie sono veramente molto ben fatte il grip è ottimo ma andiamo a vedere la configurazione la configurazione utilizzeremo il nostro meglio il mio fedelissimo datatissimo e rottissimo samsung s4 che fa sempre bene suo dovere ecco qua passiamo alla configurazione andiamo ad accendere le nostre cuffie basta tenere premuto per circa 45 secondi si attivare led di stato vediamo ecco qua il led inizia a lampeggiare rosso blu e rosso quindi vuol dire che in attesa di segnale attiviamo il nostro bluetooth un attimo di pazienza eccoci qua subito le cuffie sono state viste eccoli qui san vito andiamo ovviamente ad associare le cuffie il led da blu e rosso diventa blu lampeggiante sono state ovviamente inserite nel telefono vediamo il funzionamento avremo il nostro nostro brani musicali andiamo nell'archivio dati musica ecco qua allora vi dico subito che le cuffie io le ho testate il basso è presente non troppo presente ma parliamo di cuffie che servono per lo sport per andare a correre per fare palestra e nel contempo ricordo che hanno un bluetooth 4.0 quindi veramente fulminio il collegamento bassa potenza possibilità rimandare avanti indietro il brano compatibilissimo con iphone 6 iphone 5 ipod samsung galaxy htc insomma è compatibile con tutti i telefoni che hanno un protocollo bluetooth quindi posso consigliere questo prodotto anche per il prezzo molto economico su amazon si parla di 20 euro con spedizione inclusa non so cosa comprate il prodotto è fatto bene il grip è ottimo cavo anticrovideo batteria lunga durata quindi da gianluca attanasio è tutto da san vito è tutto un saluto anche da parte di capitano america che resta sempre silenzioso ci vediamo la prossima recensione ciao ragazzi